Dice sì all'accoglienza e agli immigrati e non ci gira attorno Ezio Raciti. Il capogruppo di Futura Riposto risponde a Saro Caltabbiano e a Carmelo Durso Junior sulla vicenda. Secondo Raciti, il comune di Riposto deve fare la sua parte nell'ospitare rifugiati richiedenti asilo e immigrati in genere. Desidero che le forze politiche che fanno capo al governo nazionale, come il PD, desidero che coloro i quali fanno capo alla Chiesa si esprimano in merito. Chiaramente, una volta assodati i principi inalienabili su cui Futura Riposto, che è composta da 2300 elettori, si espressa chiaramente nel corso di questi giorni in merito. Futura Riposto sarà intransigente con chiunque parli a sfavore dell'accoglienza. Futura Riposto sicuramente è per un tavolo che individui dei percorsi, che individui ciò che noi possiamo fare nei confronti di questi, in questo momento, bisognosi, bisognevoli di aiuto. Quindi il tema non è accoglienza sì, accoglienza no, il tema è come strutturare questa accoglienza. Più che altro però, Saro Caltabiano e la stessa Daida, sua compagna di gruppo, sono preoccupati più che altro per la location, per la collocazione a torre del centro di accoglienza. Questi sono dettagli. Non esistono gli uomini, nemmeno le donne, esistono le idee, esistono i progetti, esistono i valori su cui queste idee devono attecchire. Non mi interessa quello che dicono gli altri, a me interessano quelli che sono i sostegni fondamentali di quella che deve essere la civiltà del mondo, quando ci può interessare di opinioni del singolo. A noi interessa semplicemente tenere fede ai valori, al giuramento prestato, nei confronti di una nazione, ma soprattutto nei confronti di quella che è l'umanità. Lei con Claudia Daida ha avuto già modo di chiarire? Non devo chiarire niente con Claudia Daida. Claudia Daida io non ci ho sentito fare delle dichiarazioni ufficiali. Sicuramente è attrezzata e avrà modo di farle, probabilmente... Ha già fatto un'interrogazione consigliare. Ha fatto un'interrogazione consigliare per conoscere quello che era lo stato dei fatti. Anche perché su questo l'amministrazione comunale deve essere vigile, perché l'amministrazione comunale è chiaro che debba dare delle risposte in merito al pedigree di questa cooperativa, di questa associazione. Deve capire l'amministrazione comunale se ci sono le condizioni dei trasporti, se ci sono le condizioni della sanità. Questo deve capire l'amministrazione comunale e questo io gli ho sentito chiedere a Claudia Daida. Claudia Daida è una persona che è strutturata ed ha dei profondi valori cristiani, dei profondi valori associativi. E quindi fino a quando io non sentirò parlare Claudia Daida in maniera diversa, sono convinto che Claudia Daida è in futuro riposto e nei valori che la contraddistinguono. Claudia Daida è in futuro riposto.